La nostra azienda si chiama Pometti ed è composta da Fattoria La Selva e Villa Boscarello. Produciamo olio extravergine di oliva e vino. Il nostro agiturismo offre ospitalità da oltre 30 anni. Poste sulle colline nel comune di Trequande Asciano, Pometti fa parte del patrimonio agricolo di mio padre Duccio, comprendente anche la Fattoria Chiatina nel comune di Buon Convento. Ambe due a pochi chilometri l'una dall'altra, in provincia di Siena, si estendono per oltre 815 ettari e sono arrivate a noi per successione Pometti dai Socini, banchieri, notai e teologi noti fin dal XIV secolo e Chiatina dai Ricci, famiglia della ricca borghesia di agricoltori. Mio padre si è trasformato in agricoltore sin dal 1979, anno in cui sua nonna, Maria Ricci Socini, gli affidò la conduzione di Pometti, ora passata a me e a mia sorella Vittoria. La selva, risalente al XV secolo, è una tipica costruzione in pietre e mattoni, restaurata e suddivisa in 12 appartamenti di varia grandezza, ma tutti arredati con mobili d'epoca e ricchi di atmosfera toscana. La fattoria, con il suo ampio giardino, offre ai suoi clienti piscina, ping pong, recinto con animali di fattoria, parco con barbecue, vasca jacuzzi riscaldata e a soli 5 km il campo da tennis. Vengono organizzate ogni settimana cene, passeggiate attraverso la proprietà alla scoperta della campagna e dei lavori in vigna e oliveto, degustazioni e visite guidate in cantina. Si organizzano inoltre lezioni di cucina per realizzare semplici e gustose pietanze della nostra zona. La costruzione risale al 1600, restaurata prima nel 1802 e poi dal 1995 al 2000 da mio padre Duccio. La villa, con la sua piscina dalla quale si gode di un panorama meraviglioso che si estende fino a Siena e dal Monte Amiata, offre la possibilità di rilassarsi in un ambiente raffinato. Gli ampi saloni con eleganti soffitti e gli autentici eredi di famiglia offrono un'antica atmosfera toscana. Gli ampi saloni con eleganti soffitti e gli autentici eredi di famiglia. Grazie. Grazie. Grazie.